L'equipaggio viene protetto con il roll bar, una robusta struttura di tubi d'acciaio. Tra gli accessori il Twin Master è indispensabile, permette rimisurare lo sviluppo del percorso. Ma le fasi più intense ed emozionanti di un rally sono le prove speciali. Se gli equipaggi più preparati riescono a non accumulare ritardi ai controlli orari, sono queste prove appunto a dare un volto preciso alla classifica. Una prova speciale è una gara di velocità. Il meccanismo è semplice, c'è un tempo minimo previsto per una certa distanza e ogni secondo di ritardo comporta punti di penalità, oppure il tempo di percorrenza è libero e i distacchi si determinano sul tempo realizzato dal concorrente più veloce. Il tracciato in questo caso è bloccato al traffico normale dalla polizia della strada. Pilota e navigatore hanno l'obbligo di portare il casco. Il navigatore legge, urla al pilota le caratteristiche del percorso riportati in appunti quasi stenografici chiamati note e il pilota cerca di sfruttare al massimo le possibilità sue e della vettura. A lungo 100 Destra più più 50 e sinistra più più Attenzione Attenzione al bivio tenere sinistra e subito destra più più e sinistra più più 50 Attenzione Sinistra meno e destra meno più Alla casa sinistra più Attenzione 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 Destra meno più e subito sinistra e destra più più Attenzione Allungo 100 Dai adesso Vai Vai Spingi Vai Dai Dai sotto Attenzione 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 Sul piazzale bivio a destra in pieno e subito sinistra più più Destra piena Desta piena lunga Cento 50 Attenzione Attenzione Sul punta destra meno più 50 Sinistra più 40 Sinistra più 2 3 4 5 5 5 6 9 10 11 12 13 13 13 15 15 15 16 16 21 21 22 Grazie a tutti.